Ford coccola i nostri amici a quattro zampe con il Megabox di Puma, Mercedes GLB, ora anche con motore MG, Suzuki Katana, nella esclusiva versione Jindachi. Il cane è il migliore amico dell'uomo, un legame che da millenni ci lega ai nostri amici a quattro zampe, recentemente celebrato anche dalla giornata internazionale del cane. Ford ha voluto fare lo stesso inserendo nel bagagliaio della nuova Puma l'innovativo Megabox, un versatile vano portaoggetti da 80 litri, situato nella parte posteriore della vettura, impermeabile, dotato di un tappo di scarico che lo rende estremamente semplice da pulire, che funge da vasca da bagno per i nostri piccoli amici e se non siete amanti dei cani invece lo potrete utilizzare come pratico portaoggetti. Design emozionante, dinamica di guida superiore, tanto spazio a bordo e un motore potente. Già, perché ora anche GLB, uno dei SUV della gamma Mercedes, è equipaggiato con un motore AMG, lo stesso utilizzato sulla famiglia di vetture 35. Il quattro cilindri turbo da due litri eroga 225 kilowatt a conti fatti 306 cavalli e in abbinamento al cambio DTC a 8 marce alla trazione integrale Ford Matic Performance AMG, completamente variabile, assicura un piacere di guida sorprendente anche in fuoristrada. I vantaggi non sono però soltanto sotto al cofano, scegliendo GLB infatti si può contare sulle caratteristiche classiche di un SUV, posizione di guida rialzata e tanto spazio può infatti ospitare fino a 7 passeggeri. Suzuki Katana con la versione Jindachi si pone al vertice della gamma grazie ad un equipaggiamento davvero eccezionale, il suo nome ancora una volta ispirato all'affascinante mondo delle tradizionali armi bianche giapponese, Jindachi identifica infatti una particolare categoria di spade a lama lunga caratterizzate da ornamenti magnifici e finiture di pregio assoluto, la stessa attenzione ai dettagli si ritrova in questo allestimento che riunisce il meglio di quanto presente nel catalogo degli accessori originali Suzuki. La dotazione si arricchisce di accessori che migliorano il comfort nell'utilizzo quotidiano, impreziosiscono la linea ed esaltano le prestazioni così come il sound dello scarico. Il pacchetto creato dalla casa giapponese comprende infatti tra l'altro lo scarico in titanio appositamente realizzato per Katana dallo specialista Karapovich che dà un tocco più sportivo alla linea, consente un sensibile risparmio del peso e regala un sound più pieno al motore.